Dopo le maxibollette del progetto case relative a conguagli prima del 2018 che hanno suscitato scalpore e proteste degli inquilini da pagare in un'unica soluzione, sta arrivando un'altra stangata relativa ai canoni di affitto degli anni 2018, 2019 e 2020, fatture che in alcuni casi toccano anche 5.000 euro. Per questo il consigliere comunale Lelio De Santis ha chiesto la convocazione di una commissione di vigilanza e controllo. Anche in questo caso si chiede all'utenza di pagare tutto e subito entro il 31 agosto, una gestione che per il consigliere fa acqua da tutte le parti, una situazione mal gestita insomma. De Santis ha ribadito che canoni e tense vanno pagati, ma va data al tempo stesso la possibilità agli inquilini di pagare periodicamente con l'emissione delle bollette che si è a regolare. Qui tutti devono pagare, i furbi vanno perseguiti perché non può essere che l'onesto paghi e il disonesto ne approfitti. Ma questo non significa però che poi noi ci dimentichiamo come pubblica amministrazione di inviare periodicamente le bollette riferite ai consumi ma anche ai canoni e poi quanto ce ne ricordiamo mandiamo delle bollette in questa maniera di migliaia di euro e non prevediamo nemmeno la raterizzazione per il conquale. Ma oggi stanno arrivando anche altre bollette che riguardano i canoni di migliaia e migliaia di euro. Io ho avuto segnalazione, mi hanno inviato delle whatsapp, delle coppie. Parliamo di canoni dal 2018 al 2020 di migliaia e migliaia di euro. Quando avremmo dovuto richiederli tempestivamente. Qui c'è di mezzo chiaramente la responsabilità degli inquilini che io invito a fare la propria parte correttamente, responsabilmente. E noi come comune che dobbiamo tutelare le casse comunali, l'equilibrio di bilancio perché noi siamo esposti per milioni. E che bene che si sappia, noi il comune dell'Aquila sta pagando, sta anticipando e ormai sta in grande difficoltà avendo anticipato per circa 25 milioni. Questo è l'indebitamento serio che mette in pericolo lo stesso equilibrio di bilancio. Ma mentre dico questo, facendo questo appello, dico che noi come comune dobbiamo anche andare incontro alle esigenze di soprattutto e più bisognose. Quindi consentire la realizzazione sia per quanto riguarda i canoni che per quanto riguarda l'utenza.